L'Associazione Teatrale Epistoiese sospende la stagione autunnale di prosa e per ragazzi recentemente annunciata dopo che il DPCM del 24 ottobre ha disposto misure anti-covid ulteriormente restrittive prescrivendo la sospensione di tutti gli spettacoli nei teatri fino al prossimo 24 novembre. La notizia coglie l'Associazione Teatrale Epistoiese proprio all'apertura di una ricca e articolata stagione autunnale di prosa, musica e teatro per ragazzi recentemente annunciata e già colta in prevendita con ottimo favore da parte del pubblico che ha confermato il diffuso desiderio di tornare a condividere occasioni di cultura e di intrattenimento di qualità spiega l'Associazione aggiungendo che si tratta di un provvedimento di cui l'ATP prende atto ma che come l'intero comparto dello spettacolo dal vivo non può condividere. L'Associazione Teatrale Epistoiese spiega che in questi mesi e già dall'estate rigore, precisione e cura sono state le parole d'ordine garantendo al pubblico una fruizione degli spettacoli in totale tranquillità. L'ATP cita inoltre un recente studio dell'Agis che ha monitorato durante l'estate gli eventi di prosa, danza e musica e che ha evidenziato come la percentuale dei contagi in questo contesto sia risultata prossima allo zero, una testimonianza che gli spazi dello spettacolo si sono dimostrati luoghi sicuri.